Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo mega galattico e spaziale, un profumo che ha fatto la storia, che tante di voi sicuramente utilizzano e amano, perché è un profumo così o lo si ama o lo si odia. Stiamo parlando di Hypnotique Poisson di Dior, la versione ufficiale Eau de Toilette. Nasce nel 1998, quando è uscito questa piccola mela rossa avvelenata, in realtà ha fatto scalpore tutti, tutti, voi andavate in giro nei locali, nei ristoranti, a scuola, ovunque, sentivate qualcuno che lasciava la scia di Hypnotique Poisson. È un profumo orientale vanigliato, quindi chi lo conosce, sicuramente appena lo annusa, sente subito la vaniglia. È inconfondibile ragazzi questo profumo, io l'ho utilizzato tantissimo, l'ha utilizzato tantissimo anche mia sorella, e prima di lei anche mia mamma, e l'abbiamo adorato. Finché a un certo punto è diventato così tanto usato, che poi alla fine uno dice, vabbè, magari opto per un'altra profumazione, anche perché poi veniva un po' alla nausea, lo stesso profumo per tanto tempo. Ha un'armonia di note veramente pazzesca. Come note di testa troviamo il cocco, la prugna e l'albicocca. Quindi sono tutte note molto fruttate, esotiche, succulente, soprattutto si sente tantissimo, tantissimo l'odore della prugna, che è un profumo meraviglioso da mettere nelle orchestre dei profumi, perché ha una sensazione, dà una sensazione di dolcezza, ma nello stesso tempo non è per nulla stucchevole. Come note di cuore di questa meravigliosa profumazione troviamo il legno di rosa, il gersomino, la tuberosa, il mughetto e la rosa. Nelle note di fondo troviamo la vaniglia, la mandorla, il sandano e il muschio. Quindi sono ben ancorate le note di fondo, sono tutti elementi che permangono tantissime ore sulla pelle. Io qua ho ancora una gocciolina di questo profumo che non intendo utilizzare, la tengo proprio come reliquia perché non si trova più quest'edizione. La sua persistenza è epica, veramente da premio Nobel. È un profumo che quando voi applicate questo profumo, difficilmente, difficilmente, anche lavando le cose, i vestiti in lavatrice, voi riuscirete a togliere questa aroma. Rimane comunque inequivocabilmente profumo di Pnotique Poisson. Il suo sillage è, cioè, veramente, non si può capire se non sentendolo, ma sicuramente l'avrete già sentito in altri milioni di spazi e di luoghi, è un 10 su 10. La versione, invece, odierna, ho sentito e l'ho sperimentata sulla mia pelle del 2018, posso dirvi che è meno persistente, ma non particolarmente meno persistente, e il sillage, invece, è comunque spaziale. Quindi è un profumo, in realtà, che, come descriverlo? È vaniglia pura assoluta, mandorla dolce succosa, prugna, mughetto. È veramente un profumo iperfemminile. Rispetto alle altre sue versioni che ho recensito sul mio canale, è molto più giocherellona, se vogliamo, più sbarazzina. È una fragranza che, comunque, bene o male, anche se si sente spesso copiatissima, è una delle fragranze più copiate con Chanel numero 5 e J'adore. È un profumo che, veramente, se messo nelle giuste stagioni, con la giusta calibrazione, e magari facendo delle sostituzioni con la versione de Parfum, che è meravigliosa, o magari con altre versioni un po' più leggere, questo può essere veramente il profumo di un'intera vita. Una signature che lasciate il segno, che, quando magari sentono le altre persone, i Proutique Poisson, lo ricollegano subito a voi. A me era successo esattamente questo, con Alien e a mia sorella con i Proutique Poisson. Quindi è veramente un profumo che penso che non passerà mai di moda, non passerà mai dalla storia, perché comunque l'ha fatta. Quindi, ragazzi, se siete curiose di sentire la versione di Proutique Poisson e de Toilette, e magari non l'avete ancora sentita, ma vi piacciono le vaniglie, vi piacciono le mandorle, e tutto ciò che è, tra virgolette, gourmand, ma dolce, assolutamente, i Proutique Poisson, la versione Eau de Toilette, fa il caso vostro. Non è un profumo ingombrante, ma anzi, può essere una scia molto piacevole per chi vi sta vicino, perché comunque sono note che, come vi dicevo, o si amano, o al contrario, purtroppo si odiano. Anche per oggi il video è terminato, se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about! Ciao! 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 !